Ciao, sono Eliana, sono una naturopata e un'insegnante di fitness. Per tanti anni ho insegnato ai miei allievi a prendersi cura di sé allenando ogni singolo muscolo del proprio corpo. Non ho mai pensato che anche il viso, essendo composto in buona parte da muscoli, andasse allenato. Questo non solo per preservare la bellezza e la giovinezza dei nostri visi, ma anche e soprattutto per un discorso di benessere, concetto che per me, per la mia professionalità, è veramente molto importante. Lo svegliarsi la mattina e vedersi con un viso radioso, luminoso e tonico è secondo me una buona partenza per sentirsi bene a 360 gradi. Petra è una persona che trasmette tutta la passione che ha per questa disciplina. È molto puntigliosa, molto precisa, molto accurata nei modi in cui insegna questa materia. Il videocorso è strutturato molto bene, per cui la distanza, il non contatto non è stato mai un problema, perché Petra è riuscita ad essere presente sempre nel raccontare, nello spiegare, nell'approfondire tutti gli argomenti che venivano spiegati durante le video lezioni. Io credo che questo percorso, per tutti gli operatori che lavorano in ambito olistico nel mondo del benessere, sia veramente un valore aggiunto che ci permette di aumentare la nostra professionalità. Ringrazio quindi Petra per questa bella opportunità. Mi auguro di insegnare questa disciplina a quante più persone possibili, perché sono assolutamente convinta che la bellezza esteriore rifletta anche un benessere interiore importantissimo, soprattutto in periodi difficili come quelli che abbiamo affrontato nell'ultimo anno. Quindi grazie.